Come rovinarsi la vita durante le festività. Un decalogo paradossale. Numero 1. Isolati completamente. Mentre tutti si riuniscono, scegli deliberatamente di isolarti. Chiudi le porte e spegni il telefono. Ignora gli inviti e passa le festività completamente solo, dedicandoti a rimuginare sulle cose che non vanno nella tua vita. Dopotutto l'isolamento è il miglior modo per coltivare una buona dose di malinconia festiva. Numero 2. Crea delle aspettative irrealistiche. Sognare è gratis, quindi immagina delle festività perfette come nei film, dove tutto è impeccabile e luccicante. Aspettati regali costosi, cibo gourmet e familiari sempre felici e estremamente comprensivi. Quando la realtà non corrisponde a queste aspettative cinematografiche, lasciati sopraffare dalla delusione e dal risentimento. Perché accontentarti della realtà quando puoi vivere nell'eterna insoddisfazione? Numero 3. Spendi senza pensare. Trasforma le festività in un festival del consumo. Usa questo periodo come scusa per spendere senza controllo, acquistando regali lussuosi e superficiali che vanno ben oltre il tuo budget. Affronta il nuovo anno con una montagna di debiti. Ricorda l'importante non è il pensiero, ma il prezzo del regalo. Numero 4. Ignora i conflitti familiari. Non c'è momento migliore delle festività per riaccendere dei vecchi conflitti familiari. Evita ogni tentativo di comunicazione aperta o risoluzione dei problemi. Invece cerca con tutto te stesso di alimentare rancori e malintesi. Sii protagonista di almeno un grande litigio che lasci tutti a bocca aperta. Numero 5. Rifiuta di adattarti. Sii inflessibile nelle tue tradizioni e aspettative. Se qualcosa cambia o qualcuno propone un nuovo modo di celebrare, opponi resistenza e lamentati per tutto il tempo. Mantieni una mente chiusa. L'adattabilità è per i deboli. Numero 6. Abbuffati senza godere. Durante i passi festivi mangia fino a sentirti fisicamente a disagio, ma non dimenticare di lamentarti di quanto hai mangiato. Ignora completamente il piacere del cibo e concentrati solo sul senso di colpa post-abbuffata. Numero 7. Sottolinea solo il negativo. Concentrati esclusivamente su ciò che manca o su ciò che non è andato a buon fine. Su tutto ciò che è andato storto. Ignora i momenti di gioia e le piccole vittorie. Sii il portavoce del pessimismo. Una nuvola nera personale che oscura la luce della festa. Numero 8. Rifiuta ogni offerta di compagnia. Anche se ti senti solo o sopraffatto, rifiuta categoricamente ogni offerta di compagnia. Mantieni un fiero isolamento. Dopotutto accettare aiuto è un segno di debolezza, no? Numero 9. Non riposare e non rilassarti mai. Chi ha bisogno di riposo? Ignora il tuo bisogno di sonno e di relax. Invece riempi ogni momento con attività stressanti e con tantissimi impegni. Arriva a gennaio esausto e irritabile, pronto ad affrontare l'anno nuovo con il minimo dell'energia. Numero 10. Trascura la riflessione personale. Evita ogni forma di riflessione o di bilancio rispetto all'anno passato. Non pensare ai tuoi traguardi o a ciò che vorresti migliorare. Mantieni una visione miope della tua vita. Guardare indietro avanti è solo e soltanto una perdita di tempo. Fammi sapere se ti ritrovi in alcuni di questi punti o se conosci qualcuno che potrebbe essere interessato a questo decalogo. Taggalo nei commenti. Questo decalogo è stato creato con un tono umoristico e paradossale per sottolineare l'importanza in realtà di prendersi cura di noi, gestire le nostre aspettative, coltivare delle relazioni positive, godersi veramente lo spirito di queste festività. Nella vita reale ovviamente è essenziale evitare tutti questi comportamenti negativi e invece è importante coltivare degli atteggiamenti e delle azioni che promuovano il benessere personale. Se ti è piaciuto questo video metti like e continua a seguirmi almeno fino al prossimo video.